Siamo qui al Forum PIA a parlare di sostenibilità, ci può parlare di questo gruppo di lavoro di cui abbiamo sentito parlare poco fa? Dunque, la RUS è la rete delle università per lo sviluppo sostenibile e all'interno della RUS ci sono diversi gruppi di lavoro. Io mi freggio di aver costruito il più giovane, è nato nel 2023, che si chiama Università per l'industria e lo scopo di venire qui in questo bellissimo contesto della pubblica amministrazione è proprio perché stiamo lavorando sul ragionamento dell'università e il nuovo ruolo dell'università che può avere per lo sviluppo industriale del Paese. Ma ritiene che il potenziale che c'è nelle università sia sufficiente per incontrare le necessità che le imprese sperimentano e chiedono? Guardi, io sono innamorato dell'università e ritengo che ci sia un enorme potenziale nelle università, non fosse altro che per il semplice fatto che è un luogo di pensiero libero e di grande profondità culturale. Questi due fattori sono un'enorme potenzialità che va sfruttata per lo sviluppo del Paese. Ma lo facciamo abbastanza o possiamo fare di più? E cosa possiamo fare di più secondo la sua esperienza? C'è sempre da fare meglio in generale, quindi c'è margine. Il che cosa è fare sistema? Quindi quello che non riusciamo a fare ancora bene in Italia è quello di credere uno nell'altro, avere molta fiducia e rapporto interpersonale. Questa è una cosa delicata. Le reti come la RUS favoriscono questi scambi.